Ciao a tutti io sono Tommaso e questo è il Mavic 2 Enterprise Dual Perché si chiama Dual? Beh perché ha una telecamera sul visibile e una telecamera termica che è proprio l'interesse che suscita questo prodotto che ha un prezzo inferiore ai 3000 euro quindi molto interessante come macchina ma andiamo a vederla subito che così diamo un'occhiata a come funziona assomiglia moltissimo al Mavic 2 Enterprise anzi è una versione aggiornata del Mavic 2 Enterprise che non è altro che una versione aggiornata a sua volta del Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom difatti la macchina è la stessa identica non cambia assolutamente nulla a parte la scelta dei colori sugli adesivi differenti difatti li hanno fatti rossi in questo caso ma ecco qui la parte che ci interessa maggiormente ovvero questa telecamerina piccolissima che ci permette di avere appunto la parte visibile e la parte termica la parte sul visibile è una telecamera con un sensore da 1 su 2 terzi di pollice da 12 megapixel con un field of view approssimativo di 85 gradi e un'apertura f da 2.8 ha un range ISO da 100 a 3200 e può filmare fino a 4K quindi 3840 x 2160 a 30 frame al secondo ovviamente può filmare anche in 2.7K e a 1080p registra in MP4 e in MOV su codec H264 ma parliamo un po' della telecamera termica che abbiamo qui sotto che è una FLIR la risoluzione del sensore è di 160 x 120 e il video formato è di 640 x 360 il framerate è un po' basso perché parliamo di 8.7 frame al secondo le foto sono in JPEG e anche qui il formato video è in MP4 o MOV con codec H264 anche la radio è della stessa tecnologia del Mavic 2 generico quindi come il Pro, come lo Zoom e come l'Enterprise non cambia assolutamente nulla il drone ovviamente ha tutti i sensori che ha anche il Mavic 2 quindi è praticamente identico cambia solo ed esclusivamente la parte del payload mi piace molto come è fatto il payload qui sotto e come lo hanno collegato notate che ha questo gimbal su tre assi e lavora molto bene è molto stabile effettivamente come gimbal parliamo un po' di pregi e di difetti di questa macchina perché le persone con cui ho parlato ci sono molto lamentate del fatto che il sensore è veramente piccolo effettivamente il sensore da 160 x 120 non è grande ma anche il prezzo di questa macchina è di 3000 euro scarsi se vogliamo raggiungere un sensore un po' più grande sempre rimanendo nel campo FLIR visto che DJI e FLIR collaborano e hanno anche altre macchine con sensori più importanti parliamo della nuova XT2 che ha un sensore da 640 x 512 in virtù poi del millimetraggio della lente che gli si applica oppure 336 x 256 su millimetraggio 13,19 e 25 però la sola macchina solo il gimbal con la camera termica duale costa 12.000 euro capite che c'è un gap immenso da quello che potrebbe essere l'acquisto di un drone da 3000 e un gimbal da solo da 12.000 più un'altra macchina che potrebbe essere un matrice 200 che sono altri 6.000 euro più o meno quindi si cambia completamente il range di azione non mi sento di fare un paragone quindi tra un XT2 quindi con un matrice 200 con una camera che in totale vi costa quasi 20.000 euro e una macchina che ne costa 3000 mi sento piuttosto di farvi vedere quali sono stati i test che abbiamo svolto negli ultimi giorni con questa macchina che ci è stata tra l'altro gentilmente concessa da Attiva SPA e vedere cosa si può fare e cosa invece non si riesce a fare con una macchina del genere io sono rimasto stupito di ciò che si può fare calcolate che abbiamo volato quasi sempre sotto ai 50 metri di quota perché comunque le necessità che avevamo per i lavori che abbiamo scelto di testare erano quelle abbiamo lavorato in notturna per andare a ricercare persone e animali abbiamo lavorato su una discarica per andare a visualizzare le zone di biogas che venivano emesse quindi il calore della terra che variava da un punto all'altro e abbiamo lavorato su dei pannelli fotovoltaici per vedere se ne trovavamo di difettosi rotti o comunque da sostituire diamo un'occhiata alle immagini e poi le commentiamo assieme un'occhiata alle immagini grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok? Ok. Grazie a tutti. 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 sono in un bosco, sto passando, non vedo assolutamente nulla, vedo l'animale che passa, a quel punto avrò il mio feedback dell'animale o di ciò che sto andando a ricercare. Solitamente non utilizzo questo tipo di filtro, ma utilizzo questo filtro qui, hotspot, eccolo qui, e vado ad aumentare leggermente, vedete che se aumento il range di temperatura mi perdo completamente, eccoci qua, e questa è la mia gestione, da 19 a 34 gradi. Ho creato questo range, ma potrei ad esempio andare ad aumentarlo un pochino di più. Ok, posso pigiare sul più qui sotto per avere anche una maggiore gestione. Ok, una cosa del genere. Mi ritorno da me, vedete che adesso la mia faccia è praticamente irriconoscibile, cioè non si vede più nulla, però si capisce benissimo quando qualcosa di caldo viene ad entrare in visuale. Quindi in virtù di come andiamo a utilizzare questa scala, potremo avere o meno le nostre scale di colori, che sono indispensabili, cioè se lo utilizziamo in automatico non serve assolutamente a nulla. Me ne ritorno sulle altre, vedete il rainbow, il grey, il metal di nuovo, e il cold spot per vedere invece le parti fredde. Ok, questo è nel reparto, ovviamente l'MSX può essere sempre attivato, io ce l'ho su pulsante rapido, ma altrimenti possiamo inserirlo qui, MSX, visibile e IR. Torniamo sul visibile e diamo un'occhiata ai menu disponibili. Menu fotografico, dove abbiamo il photo mode, l'image format e l'image ratio, quindi abbiamo la possibilità di fare il single shot, burst mode, interval, eccetera. Image format, jpeg e l'image ratio, 4 terzi piuttosto che 16 noni. Le risoluzioni video, formato MP4 piuttosto che MOV, per il termico la risoluzione only support 640p a 8.7 frame per secondo, mentre per il visibile abbiamo queste impostazioni, che però vedete essere sempre e solo a 30 frame al secondo. Non abbiamo la possibilità, spostandoci qui, abbiamo la possibilità di aggiungere l'istogramma, timestamp, video caption, smart LED e via dicendo. Abbiamo la possibilità di gestire il gain mode, quindi automatico piuttosto che alto, piuttosto che basso, in virtù di quali sono i range di temperature che vogliamo andare a gestire. Una cosa interessante è che la registrazione avviene anche all'interno del drone con 24 giga di memoria. Ieri sera mi sono dimenticato l'Sd dentro il computer, ma ho registrato direttamente all'interno del drone senza nessun tipo di problema. E per vedere invece qui sotto le impostazioni automatiche piuttosto che manuali, vedete che io non posso andare a shiftare nella modalità manuale dall'automatica. Quindi gestirà lui gli ISO, gestirà lui apertura e shutter. L'unica cosa che potrò andare a fare io è quella di andare a gestire eventualmente l'esposizione della camera. Qui abbiamo i nostri soliti menu del drone, dei sensori, del radiocomando, della ricezione dei canali, delle batterie come sono messe, del gimbal e tutto quello che è altro. Quindi con la possibilità di fare anche eventualmente live streaming e via dicendo. E qui abbiamo la possibilità invece di visualizzare la mappa, quindi dove ci troviamo in questo preciso istante con il GPS. Ritorniamo al computer. Avete visto come funziona questo Mavic 2 Enterprise Dual? Non ho altro da aggiungere su questo prodotto se non che io ne sono veramente soddisfatto. E secondo me può essere un prodotto utilizzato a livello lavorativo in varie professioni, in vari settori. Ovviamente tenendo conto delle sue limitazioni e del piccolo sensore che ha a bordo. Però possiamo iniziare a lavorare con camere termiche anche senza spendere decine di migliaia di euro, grazie al piccolo prodigio che ha tirato fuori DJI. Bene, abbiamo terminato anche questa recensione del Mavic 2 Enterprise Dual. Spero che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta cliccate mi piace e iscrivetevi al canale. Condividete il video con i vostri amici. Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarmi. Anche per il discorso vendita abbiamo il contatto diretto con l'azienda che si occupa della vendita di questi prodotti. Quindi scrivetemi tranquillamente o tramite messaggio qui su YouTube oppure sulla mia mail info-tomasocodolo.com o tramite il sito www.tomasocodolo.com E noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao! Ciao!